Erba che cresce in colta, rifiuti e sporcizia, uno stato di degrado che caratterizza alcuni spazi pubblici del comune di Pagani. Dopo le diverse segnalazioni arrivate al nostro ufficio reclami, l'ultima quella di un cittadino che ha mostrato tramite alcune foto lo stato di abbandono della villetta adiacente via Genova, arrivano le rassicurazioni del sindaco Salvatore Bottone. Con il via libera al bilancio le zone pubbliche torneranno nuovamente pulite. L'erba è presente in tutta la città, tranne come dicevo in alcune zone, particolarmente per le scuole dove abbiamo provveduto a tagliarlo, in alcuni punti. Adesso, avendo avuto il via libera del bilancio, possiamo attrezzarci per poter fare un affidamento a un'azienda esterna per poter dare il mandato e tagliare l'erba in tutta la città. Io mi auguro che nel frattempo si arrivi il decreto perché io ho previsto la presenza presso il nostro ente di lavoratori di pubblica utilità. Nel progetto ho previsto anche il taglio dell'erba, pulizia e altre cose. Mi auguro che la regione doveva farlo questa settimana, il decreto lo faccia così posso utilizzare i lavoratori in mobilità o che utilizzavano prestazioni assistenziali per questa delibera che ho fatto. Loro possono avere ancora sei mesi, più sei mesi di mobilità perché era scaduto di prestazioni assistenziali in modo tale che per un altro anno queste persone prendano uno stipendio e lavorano per un certo periodo della giornata a disposizione del Comune con una spesa a carico del Comune pari solo a 30 euro mensile per ogni lavoratore. Quindi è un ottimo investimento che abbiamo fatto. Quindi se c'è possibilità che adesso ci arrivi il decreto possiamo risparmiare anche questi 20.000 euro per il taglio dell'erba per le strade in modo tale che questi 20.000 euro li possiamo utilizzare per fare un po' di asfalto in alcune zone.